Musica Bentornati all'appuntamento con la rubrica di informazione di Piave TV 20 minuti Veneti. Oggi parleremo di territorio, territorio del Veneto orientale. Ho invitato in studio un'assessore sandonatese, una giovane assessore sandonatese, Francesca Zottis. Benvenuta nei nostri studi, assessore. Grazie. Allora, giovanissima, in politica, una grande passione la sua perché l'abbiamo già seguita. Sappiamo una passione che ha fin da quando era piccola. E adesso c'è una grande novità, ricopre il ruolo di assessore nel comune di Sandonà di Piave. Però abbiamo seguito anche la giornata della sua candidatura alle elezioni del Consiglio regionale per il Veneto. Una nuova sfida. Sì, assolutamente. Una nuova sfida da cogliere e spero un'opportunità per questo territorio. Bene. E a proposito di territorio, assessore, io ho messo tre punti, diciamo, nel nostro monitor, tre punti su cui parlare in questi 20 minuti a nostra disposizione, che sono un po' le cose salienti del nostro territorio. Allora, da assessore di un grosso comune della provincia di Venezia, si candida alla regione del Veneto, una grossa partita sarà per Sandonà di Piave, essendo lei rappresentante della città di Sandonà di Piave, la città metropolitana. Assolutamente. La città metropolitana è per noi un'opportunità in questo momento e va accolta come tale. Stiamo lavorando con gli altri sindaci del Veneto orientale. È stata commissionata anche un'analisi di fattibilità per capire quali sono anche le azioni da mettere in atto in termini anche di eventuali unioni dei servizi, in termini di fusioni, che tra l'altro la regione incentiverebbe in qualche modo e anche lo Stato in questo momento sta cercando di spingere, chiaramente in un momento di anche scarsità di risorse, diciamo che l'unione di alcuni servizi e la fusione anche dei comuni sarebbe probabilmente opportuna anche per rafforzare quelli che sono gli enti locali che hanno forte difficoltà economiche. La fermo poi e la lascio continuare. Quindi su fusione unione dei comuni, che era un vecchio argomento anche questo, trattato l'anno scorso. In questo periodo se ne era parlato molto, adesso si tace. La sua posizione è favorevole? Io sono sempre stata favorevole, quindi posso solo riconfermare di essere favorevole. Faccio solo una piccola accezione, sulla questione delle unioni bisogna sempre essere sicuri che sia un vantaggio, nel senso che unire delle forze porta dei vantaggi, unire delle debolezze solo per dei paventati motivi economici non sempre porta dei vantaggi. Quindi sulla questione delle unioni bisogna sempre fare attenzione che i servizi che si vanno a unire alla fine portino dei vantaggi sociali ed economici al territorio in cui questo accade. È per questo che è in corso d'opera un'analisi di fattibilità, per capire esattamente con numeri alla mano e anche con dati economico-sociali alla mano quali sono gli elementi da unire e che possono creare delle forze e non delle debolezze. Penso che questo sia un elemento comunque molto importante e anche di consapevolezza politica di un percorso di cui si parla ormai da decenni, che però non ha visto, se non in modo sporadico, delle grosse azioni di avanzamento. Sulla città metropolitana noi partiamo come vernetto orientale da un vantaggio e anche come San Donà, che siamo un territorio abbastanza omogeneo, nel senso che non è del tutto logicamente omogeneo, che è un territorio con più di 200.000 abitanti, che vede comunque la terza città della provincia di Venezia come San Donà di Piave e comunque anche Portogluaro come anche grossa densità abitativa. Quindi siamo già forti da un punto di vista numerico. Abbiamo le spiagge, quindi abbiamo un elemento di caratteristica economico-turistico importante e abbiamo anche altri elementi di potenziale turismo di entroterra e anche culturali di grande valore. Io penso alla parte magari più archeologica legata a Concordia, legata comunque anche a Noventa, nel suo la parte più naturalistica legata a San Donà, la parte no gastronomica, comunque la parte anche culturale stessa che possiamo avere anche a San Donà con il Museo della Bonifica. Quindi ci sono degli elementi di valore in tutto il territorio che possono diventare, se siamo pianificati in unione e anche in qualche modo in collaborazione con Venezia, degli attrattori importanti. Fino ad oggi forse quello che è mancato e che può essere la sfida anche della città metropolitana era un maggior coordinamento tra i diversi livelli, nel senso che ognuno faceva un po' per sé, e fa un po' per sé e questo isolarsi per riuscire a portare a casa qualcosa da soli abbiamo visto che non ha portato nessun vantaggio. Lei mi sta parlando dei diversi comuni? Sì, dei diversi comuni e dei diversi territori anche perché Venezia è anche... C'è ancora una sorta di campanilismo. Sì, sì. Venezia è vero che è matrigna per alcuni aspetti, però è anche vero che se noi stessi non ci uniamo per aver forza in qualche modo collaborare e anche condividere con Venezia alcuni processi lo è anche perché c'è una scarsa magari capacità di coesione da parte del territorio, una scarsa anche alle volte capacità di presentare dei progetti. A me pare che in questi anni comunque i sindaci abbiano, in questi ultimi 3-4 anni, abbiano preso una consapevolezza, una forza maggiore. Si sta lavorando molto anche sul cicloturismo, vedo che si sta lavorando molto sulla questione culturale, quindi ci sono dei progetti che stanno avanzando anche in senso, in modo anche molto concreto. Si sta lavorando sulla collaborazione con i teatri tra Sandonà, tra Sastino, tra Portogruaro, anche con quella che è la rassegna di 90. Quindi ci sono dei segnali che sono assolutamente positivi e che vanno nella direzione di dire sì, se ci uniamo anche come comuni verso la città metropolitana, ma pretendendo anche di avere determinate competenze come area territoriale, ripristinando quella che è la legge 16, che è una legge che dava un potere comunque su determinati argomenti come la pianificazione territoriale, come la formazione, l'istruzione, di definire determinati progetti e poi pretendere su questi progetti determinati finanziamenti da parte della Regione. Va rimessa in moto, gli va data sicuramente maggior senso rispetto agli ultimi anni e va ripreso il rapporto con la Regione sul fatto di avere questi finanziamenti, perché nell'ultimo anno sono stati completamente tagliati, però lo statuto regionale lo prevede. Sempre rimanendo sulla città metropolitana, partita importante è quella che si sta giocando per le elezioni amministrative di Venezia, perché probabilmente il sindaco che verrà eletto si troverà poi sindaco della città metropolitana. Quindi poi come coordinare, come riuscire, come avere forza, per esempio la città di Sandonà, come potrà poi avere forza con quello che sarà il candidato? Come si gioca questa partita poi? Un po' è quello che dicevo prima, non dobbiamo avere paura del sindaco di Venezia, chiunque esso sia nella prossima tornata elettorale. Secondo me, se lavoriamo bene sulla progettazione e sulla delega di competenze chiare, quello che stanno facendo i sindaci adesso, queste sono un po' le chiavi. Se lavoriamo bene, per esempio, sul ripristino della legge 16, se lavoriamo bene su questi tre, quattro elementi, allora abbiamo la forza sia numerica, sia di progetti in corso, sia di forze economico-imprenditoriali, sia di strumenti, come ho già detto, per poterci interfacciare col sindaco di Venezia. Il sindaco di Venezia comunque rimane uno, quindi, e deve gestire anche Venezia, quindi comunque credo che è notevole che costringerà a lavorare insieme. Quindi la paura non ce l'ho, è chiaro che oltre a questo bisogna già iniziare, abbiamo già iniziato a farlo, a lavorare dentro quelle che poi sono anche le aziende che fanno parte della città metropolitana e che gestiscono determinati servizi, penso alla questione dei rifiuti piuttosto che alla questione dei trasporti. Però anche su questo stiamo cercando di lavorare come sindaci, stiamo cercando di lavorare come amministrazioni per condividere quelli che sono dei piani strategici di indirizzo sulla gestione dei servizi come i rifiuti e come i trasporti. E queste due cose credo possono dare forza al Veneto orientale, possono dare forza a San Donà. San Donà su queste partite si è un po' messa anche in forte presenza con altri sindaci del territorio. E questi sono gli elementi che possono non farci prendere paura e far vedere che abbiamo qualcosa da dire e soprattutto qualcosa da proporre anche a Venezia, che di per sé è chiaro che è già una città importante perché è una delle città più belle del mondo, quindi ha un suo valore e una sua caratteristica a sé stante. Trasporti, come siamo messi? Così così, perché se rimaniamo nella zona, diciamo che lei citava spiagge, ecco, insomma, purtroppo ci ritroviamo alla prima giornata di sole che la gente non riesce più a uscire da Jesolo. Perché? Sì, diciamo, abbiamo due livelli di problemi. Trasporti, ora viabilità, poi vediamo i trasporti perché poi, insomma, forse manca un collegamento. Sì, allora a livello di viabilità abbiamo parecchi problemi, abbiamo dei problemi che derivano dalla mancanza, diciamo, della seconda e del terzo lotto, per esempio, della bretella che abbiamo, che proviene dall'autostrada di 90, sulla quale stiamo lavorando e che sembra che sia nel triennale nazionale tra le prime opere da fare, però è una cosa su cui continuare a batterci per ottenerla, perché quello, per esempio, è un elemento infrastrutturale essenziale per collegarci meglio tra San Donato, tra 90, per cui tra l'autostrada, ok, e quelle che sono le spiagge. Abbiamo un problema di collegamento tra quello che è l'uscita del casello di Meolo attuale, ok, quindi tra la zona di Trevigiano. Sì, hanno aperto, però c'è un problema di collegamento tra il Trevigiano e le spiagge e abbiamo un problema quando si arriva alla rotatoria di Jesu, la rotatoria Picchi, nella quale poi si arriva e ci si invoca. Io non capisco e purtroppo l'ultima volta mi sono trovata anch'io con il traffico uscente imbottigliata e mi sono domandata cosa succede, siamo ancora indietro come viabilità. Sì, siamo ancora indietro, ci sono diversi progetti presentati, perché si è tanto discusso l'autostrada del mare, ma ne abbiamo anche altri di progetti che erano stati presentati nel corso degli anni precedenti di sistemazione, di messa in sicurezza di quelle strade, per riuscire ad allargarle, per riuscire a fare anche dei cavalcavia che potessero velocizzare il flusso di traffico e sarebbe ora che quei progetti venissero cantierati. Questo è essenziale per Jesu, ma anche per noi, se pensiamo alle problematiche di San Donato e della zona di Passarella, sono enormi, perché sono delle strade di campagna che adesso vengono adibite quasi ad autostrade. È chiaro che delle strade di campagna, per quanto si possa pensare di sistemarle, in questo momento è anche complicato perché risorse ce ne sono poche, però dovrebbero rimanere strade di campagna, quindi bisogna comunque potenziare, mettere in sicurezza e allargare quelli che sono anche gli assi principali e completare la gretella. Quindi queste opere, i progetti esistono, bisogna cantierarli e bisogna cominciare a dargli priorità in termini anche di risorse finanziarie. Speriamo che poi ci siano queste risorse finanziarie, perché credo che il periodo di crisi, purtroppo è un periodo di crisi soprattutto per la gente, però credo a livello nazionale, insomma ci siano grandi difficoltà. Sì, a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, a livello locale forse ancora di più rispetto agli altri. Beh, adesso con la sua esperienza. Sì, siamo messi molto male, nel senso che comunque ci sono dei tagli evidenti, ci sono delle mancate di entrate di crediti che noi per esempio come Comune esigiamo sia dalla Regione sia dallo Stato, quindi abbiamo circa 2 milioni di euro che avanziamo dalla Regione, quindi sono cifre abbastanza consistenti se uno pensa a cosa si potrebbe fare. È chiaro che poi però bisogna cominciare a darsi delle priorità, quelle che sono in questo caso diciamo delle principali infrastrutture come quella di collegamento alle spiagge dovrebbe essere una priorità perché stiamo arrivando diciamo alla canna del gas in termini sia di peso, di traffico, ok, sia comunque anche di poi creare un'attrattiva perché io che vengo da fuori, se ci metto 6 ore ad arrivare al mare, probabilmente pian piano l'attrattiva anche delle nostre spiagge e come del nostro interterra vado un'altra parte perché cala, quindi su questo credo che tra le tante cose forse su alcuni argomenti bisognerebbe cominciare a ripristinare delle priorità di intervento un po' diverse per quanto sia difficile. Operare su questo è una delle priorità secondo lei. Nelle polemiche dei giorni scorsi, appunto, prima giornata di bel tempo, siamo tutti in coda per ritornare a casa, alcuni sostengono che ciò avviene perché non ci sono mezzi che possano collegare magari città alle spiagge oppure arrivare ad un punto dove ci sia poi un bus navetta fuori, diciamo, dall'imbuto, eccetera, e poi ci siano questi servizi che ti collegano ai luoghi che tu desideri. Allora, secondo me, ci sono due cose diverse. Uno è, alle volte, anche una scarsa informazione di quelli che sono, diciamo, le linee di trasporto esistenti. L'altro è vero che si potrebbe lavorare meglio, si potrebbe lavorare meglio sui collegamenti ferroviari, quindi avere maggior precisione, ok, anche di arrivo sui collegamenti ferroviari, soprattutto nei fine settimana perché... Nei fine settimana si restringono perché la gente non lavora e quindi ci sono meno... Ci sono meno collegamenti ferroviari. Questo per un territorio come il nostro che vive, diciamo, di turismo è una contraddizione. È una delle cose che con diversi sindaci, penso, insomma, anche a San Stino, piuttosto che ad altri comuni, a Porto d'Altino, a Marcon, non ci siamo, siamo ormai da due anni che ci battiamo perché è una contraddizione. Noi, durante i fine settimana, sia per quello che può essere il turismo delle spiagge, sia il nostro, sia per il turismo a Venezia, avremo bisogno che... Di collegamenti. ...si mantenessero, non si tagliassero. È chiaro che da qui, dopo, ci deve essere, per quanto riguarda il collegamento dalla stazione del treno di San Donà, un collegamento con quello che è, poi, quelle che sono le spiagge. Qui ci vuole una maggiore interlocuzione tra chi gestisce, diciamo, il trasporto ferroviario e chi gestisce, poi, il trasporto su gomma. Anche questo noi, anche, diciamo, in collaborazione a Sronesta con la TVO, l'avevamo richiesto, ok? In modo da poter gestire meglio quello che poi sono i piani delle linee, che hanno dei costi, che quindi vanno messi in preventivo un po' prima, altrimenti si rischia di, poi, non riuscire a dare un servizio di efficienza tale da incentivare anche le persone a muoversi di più col mezzo pubblico. Questo, infatti, è l'altro elemento. È vero che bisognerebbe migliorare il piano di trasporti, anzi, il piano di trasporti di ragione non c'è, comunque migliorare anche il nostro piccolo piano di trasporti, anche a livello di territorio. È anche vero che le persone devono cominciare a usarlo in mezzo pubblico. Lo usano molto gli studenti, lo usano molto gli studenti durante, magari, il pendolare, durante il periodo estivo. Comunemente, molti di noi, comunque, non lo utilizzano, ok? Quindi siamo i primi noi. È vero, è vero. Se si utilizzasse di più, si potrebbero anche incentivare le linee, perché chiaramente un mezzo funziona se è, diciamo, se l'utente lo usa. Giustamente, se c'è una richiesta, altrimenti... Esatto, altrimenti il servizio non può esserci. Siamo quasi arrivati alla fine, Assessore, ci rimane pochissimo tempo. Mi dispiace aver lasciato gli ultimi minuti per la sanità, tema molto importante. E soprattutto vorrei fermarmi il problema, ospedali. Sì. Ospedali, San Dona di Piave ha un grosso ospedale, però poi, andando in Consiglio regionale del Veneto, il piano si... bisogna guardare, insomma, a lungo raggio. C'è l'ospedale di Mestre, Treviso, Portogruaro, Iesolo. Sì. Allora, beh, su questo, tra l'altro, dovrebbe esserci una commissione quinta, non mi ricordo se domani o dopo domani, nella quale è stata chiesta interlocuzione da parte anche delle amministrazioni e da parte delle associazioni. È stato fatto un incontro, la scuola settimana, dal sindaco e dall'assessore di San Dona, Cimera Grazia Muler, con le diverse associazioni, per richiedere quello che avevamo già chiesto, che era il blocco delle schede ospedaliere. Allora, secondo me il dibattito è estremamente deviato. Noi continuiamo a parlare solo di ospedali, quando invece bisognerebbe cominciare a parlare di sanità territoriale, nel senso che la prevenzione, come l'assistenza, la si dovrebbe fare, se vogliamo anche rendere più efficienza il sistema, nel territorio e non dentro l'ospedale. Mentre attualmente ci si concentra a fare spesso tutto all'interno dell'ospedale. Quindi a me piacerebbe che il dibattito si ritornasse a parlare di come ridefinire e riorganizzare una sanità territoriale e dopo si riparlasse di ospedali. Perché se noi parliamo di chiudere un ospedale, piuttosto di togliere alcune specializzazioni, senza aver garantito una sanità territoriale e dei servizi sociosanitari territoriali, stiamo parlando del nulla. Rischiamo di andare alla chiusura di un servizio senza avere nessuna garanzia poi successiva. Rischiamo di, in questo caso di San Donà, di non avere più un ospedale che è importante, che deve essere mantenuto anche perché ha un bacino di utenza molto elevato, per quanto siamo vicini giustamente sia a Treviso sia a Mestre, che sono delle eccellenze. Mentre comunque noi dobbiamo rimanere come ospedale che dà dei servizi, diciamo, importanti, di base, che servono e non può essere che ci venga tolta la chirurgia a Tamblé, perché anche questo sta creando grossi dissidi, tenendo conto che non abbiamo delle autostrade che collegano i diversi poli, ok? Per arrivare comunque anche a Mestre, per quanto ci sia l'autostrada, è un po' lunghetta. E torniamo al discorso viabilità strade complicato nel Veneto orientale. Esatto, quindi secondo me ci sono due elementi. Uno, ritornare a bloccare le schede ospedaliere, ok, che invece stanno andando avanti e stanno portando allo smantellamento di determinati ospedali. Ritornare a parlare di servizi territoriali, quindi facciamo funzionare bene, al meglio, gli ospedali esistenti, anche rivedendo le specializzazioni, alcune proposte sono già state presentate da qualche anno, quindi non si è contrario alla revisione, alla centralizzazione di alcune specializzazioni, ma non così come è stato fatto, perché porta alla chiusura, non a una riorganizzazione, e si ricomincia a parlare di sanità territoriale, che forse è lì il nodo da sciogliere prima che nel settore sanitario puro. Partita che rimanderemo a dopo il 31 di maggio, a questo punto? Sì, anche se penso che la discussione sarà calda, ma... Sarà tema di campagna elettorale. Sarà tema di campagna elettorale. Però mi raccomando, non fate la campagna elettorale sulla sanità dei cittadini, battetevi per... No, 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 va fatta sulle proposte, nel senso non è una questione di pro o contro, è una questione di proposte e tutto il resto al cittadino non interessa, nel senso che il cittadino vuole andare in ospedale qui a Senona e essere curato bene. Al senso lo vuole andare in ospedale, brava, ed essere curato bene, soprattutto questo. Bene, noi siamo giunti al termine, la ringrazio per essere stata qua con noi, e bocca al lupo per la campagna elettorale che adesso si fa davvero calda. Ricordo l'appuntamento ai nostri telespettatori con 20 minuti veneti, alla prossima settimana, sempre su questa emittente. Grazie e buona continuazione di programma. Grazie. 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 Grazie.